I dipendenti regionali non sono stati fermati neanche dalla pioggia battente di questa mattina. Si sono radunati davanti Palazzo d'Orleanse della Presidenza della Regione per dire di no ad una manovra finanziaria che li vedrebbe colpiti nel loro status di regionali e che già nelle prossime ore potrebbe arrivare in aula. Uno spiraio di trattativa sembrava essere arrivato ieri quando le sigre sindacali e dipendenti si sono date appuntamento per confrontarsi con il Presidente Crocetta su diversi temi inseriti nel testo della finanziaria ma l'incontro non ha dato l'esito sperato, costringendo il regionale a scioperare oggi e a darsi appuntamento alla manifestazione prevista per il 20 marzo. Nella finanziaria ormai messa a punto dall'assessore al bilancio Baccei, i dipendenti vedranno ridursi le ore di permessi sindacali e l'equiparazione del trattamento pensionistico a quello dei lavoratori statali. Noi chiediamo che non venga cambiato nulla, venga semplicemente adottato un sistema di tagli sui veri sprechi e sulle spese che ci sono alla regione siciliana, che non sono certamente i dipendenti con 1.000-1.500 euro al mese di stipendio o praticamente tutti i dipendenti degli enti di cui è all'articolo 1. Quindi diciamola quant'è questa busta paga, perché così la gente... Ci sono esattamente 1.000 euro, noi lavoriamo da 15 anni, non potremmo fare neanche... Svolgiamo delle mansioni superiori perché gli istruttori di fascia C non ci sono, non ci sono e ci fanno fare il loro lavoro a noi. Ma c'è il discorso delle pensioni che... Ecco, anche questa cosa è delle pensioni... No, delle pensioni perché praticamente stanno facendo un trattamento diverso per quelli che sono entrati dopo l'86 e quelli antecedenti all'86. Quindi non capisco se noi in qual misura abbiamo dato tutti i contributi nella stessa maniera perché dobbiamo avere i trattamenti.